Grazie a tutti. Adesso lo sapete. Infatti sentirete oggi il congedo che vi darò alla fine, è lo stesso del giorno di Pasqua. Vi dirò andate e portate tutti la gioia del Signore Risorto, alleluia, alleluia. Quindi abbiamo otto giorni che è tutta una Pasqua. Lo sapete come mai? Questo è un po' difficile. Allora, vediamo un pochettino. Lo sapete come è fatto il numero 8 voi? Sì, almeno questo lo sapete. Quindi sono due cerchi, messo uno sopra l'altro. Vediamo se siete bravi in matematica. Vediamo se siete bravi in matematica. Siete bravi in matematica? Sentite un po', il pi greco sapete che cos'è, no? Come si calcola la circonferenza di un cerchio? Non avete fatta ancora la scuola elementare? Ma che ciucci siete? Allora, vabbè, non è colpa vostra, non ci parlo io con le maestre. Allora, vi dico subito che il pi greco, perché la circonferenza di un cerchio si calcola moltiplicando il diametro per il pi greco, che è 3,14, eccetera, 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 è un numero infinito, perché il cerchio sembra che sia una cosa che c'è un inizio e una fine, ma la quadratura del cerchio è impossibile farla, perché è infinita. Quindi il numero 8 sono due cerchi messi uno sopra l'altro, ed è il numero di Gesù risorto, lo sapevate? Anche perché Gesù è risorto, attenzione, per gli ebrei il settimo giorno della settimana non era la domenica, ma era il sabato. Sapete che nell'Antico Testamento, quando Dio diede i dieci comandamenti, disse ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Shabbat in ebraico significa riposo, perché fu il settimo giorno della creazione in cui Dio si riposava tutte quante le sue opere. E Gesù è risorto il primo giorno dopo il sabato, cioè l'ottavo giorno, 7 più 1. E per questo la Chiesa celebra dalla domenica di Pasqua fino alla domenica dopo, si chiama l'ottava di Pasqua come una sola festa. E anche il Vangelo che abbiamo sentito oggi, attenzione, ci parla di questo, perché, avete seguito col foglietto, Gesù appare agli apostoli la sera di Pasqua e gli dice una cosa molto importante, adesso cominciamo la riflessione, che cosa gli dice la sera di Pasqua, la prima apparizione? Vediamo un po', avete sentito o avete dormito oggi? Gli dice a un certo punto, ricevete Giuseppe, hai dormito pure tu oggi? Hai dormito pure tu oggi? Sì, eh? Allora ve lo dico io che ha detto Gesù la sera di Pasqua. Gesù ha detto, ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati, a chi perdonerete i peccati, saranno perdonati, e a chi non li perdonerete non saranno perdonati. Secondo voi, ha istituito un sacramento Gesù dicendo queste parole, oppure no? Conoscete un sacramento in cui si perdonano i peccati? Lo conoscete? Come si chiama? C'ha tre nomi, eh? Dite almeno uno, ce n'ha tre. Confessione, oppure penitenza, ha detto una persona grande, oppure, questa è un po' più difficile, riconciliazione, quello che ci fa fare pace tra noi e Dio. Quindi, attenzione, io posso dire al Signore, io non mi vado a confessare, mi confesso direttamente con te, la posso fare questa cosa? E perché non si può fare? Perché va contro la volontà di Gesù, che la sera stessa di Pasqua ha detto agli Apostoli, a chi voi rimetterete i peccati, li rimetto anch'io, e a chi voi non li rimetterete, non li rimetto. Quindi, quando sentite qualcuno dire che dice io non mi vado a confessare, che mi confesso direttamente col Padre Eterno, bisogna dirgli non si può fare, capite? Io vi dico, io sono un sacerdote, giusto o no? Le ascolto le confessioni, giusto o no? Vi posso fare una confidenza? Prima che diventassi sacerdote, mi chiedevo sempre ma come sarà sta dall'altra parte? Cioè, anziché confessarli i peccati, ascoltarli i peccati confessati, perché io ne ascolto tanti. Secondo voi come si sta da quest'altra parte? Meglio o peggio? Meglio. Meglio, secondo voi? Peggio. Molto peggio? È molto meglio confessarli i peccati che ascoltare le confessioni, molto molto meglio, ve lo dico io. Quindi non è una cosa, è una cosa molto delicata, è una cosa molto bella ma anche molto importante, ok? Allora, quindi la prima cosa è che Gesù istituisce questo sacramento. È importante o non è importante confessarsi, secondo voi? Quanto è importante? Secondo voi si confessano tutti i battezzati, anche i grandi, anche il papà e mamma, i parenti, gli zii vostri, i cugini? Sono tutti, si confessano spesso, secondo voi? Vabbè, facciamo finta di no. Non parliamo dei parenti, diciamo così, in giro, secondo voi, oggi si confessano in tanti? Sì? Chi dice di no, alzi la mano. Ecco, e tra i grandi chi dice di no, alzi la mano. Conoscete tanti penitenti? Ecco. E come mai le persone, secondo voi, non si confessano? Vediamo un po'. O quando si confessano fanno un po' le confessioni un po' all'acqua di rose. Come mai? Di sentiamo. Come mai che non si confessano tanto le persone? Eh? Non credono a Gesù. Questa è una bella risposta. Poi? Dai, vediamo un po'. Forse si vergognano? No. No. No? Voi non vi vergognate un pochino quando andate a confessare? Sì. Eh, dai, è stato un amico, è una cosa divertente andare a raccontare le nostre maraghelle. Quindi un po' c'è la vergogna. Ma avete sentito quante volte proprio Francesco cosa ha detto? non abbiate paura di vergognarvi. E ci dobbiamo vergognare un po'. Se abbiamo fatto qualche guaio dobbiamo umilmente andarlo a riconoscere davanti al Signore. Non dobbiamo essere frenati dalla vergogna. Però c'è una cosa più grave, la più grave di tutti, per cui a volte ci si confessa un po' poco, che è quella veramente grave. Qual è? I grandi lo sanno qual è? Cioè ci arrivano. Si pensa che non si hanno peccati. Io non faccio peccati. Capite? Io non faccio peccati. Si pensa di non fare peccati. Allora, chi pensa questo? Secondo voi c'ha ragione o c'ha torto? C'ha torto. Esiste qualche persona, qualche essere umano che veramente non ha mai fatto peccati, secondo voi? Si. Chi è? Gesù. Gesù? E' Maria. Bravissimo. Come li chiami? Giovanni Monti. Giovanni Monti, bravissimo. Giovanni Monti, bravissimo. Allora, Gesù, che è uomo e anche Dio, quindi peccati non li fa. E la Madonna non ha mai fatto peccati. Quindi, secondo voi, che sono un sacerdote, no? Quando qualcuno viene a dirmi, padre io non ho fatto nessun peccato, che gli devo dire? Se è un uomo, dico forse c'ho davanti Gesù, non l'ho riconosciuto bene. E se è una donna, dico forse c'ho davanti Maria, o no? Oppure, chi pensa di non fare peccati, secondo voi, si sbaglia o non si sbaglia? Si sbaglia. Quindi sono due le possibilità. O, e speriamo che sia questa, è un po' ignorante, nel senso non si rende conto che fa tanti peccati, quindi non se ne accorge anche se li fa. Questo diciamo che un pochino lo scusa. Oppure, questa è una cosa più grave, attenzione grandi, c'è un vizio che si chiama la superbia. Cioè, si pensa di essere perfetti, che sbagliano sempre o soltanto gli altri, io non sbaglio mai. Attenzione però, questo lo dico anche ai grandi e anche a voi, voi abituatevi a confessare di spesso, fin da quando siete piccolini, se volete un consiglio, perché questo sacramento è la cosa più bella che esiste. Io lo dico tranquillamente, lo dico davanti a tutti, c'è Don Pierpaolo che può testimoniare, lo autorizzo, eh? Io mi confesso al massimo entro 8-9 giorni, sempre. Perché è una cosa bella, anche se non si fanno peccati molto grandi, si fanno cose un pochino più piccole, insomma, è bellissimo accostarsi a questo sacramento, perché ci aiuta anche a stare a contatto con il nostro cuore, a vedere anche tranquillamente le cose che non funzionano e a chiederne tranquillamente perdono a Gesù. È un sacramento bello, non è un sacramento brutto, capite? Però, attenzione, quando si pensa di non avere peccati, lo sapete San Giovanni cosa scrive nelle sue lettere, San Giovanni Evangelista, lo stesso dei Vangeli, dice questo, se noi diciamo che siamo senza peccato, ascoltate bene, facciamo di Gesù un bugiardo. Cioè, se io dico io sono senza peccati, sarebbe come se stessi dicendo a Gesù, tu sei un bugiardo. Perché, secondo voi? Perché Gesù è morto ed è risorto, secondo voi? Per quale motivo principale? Per noi. In che senso? Vediamo. Per salvarci da cosa? Dal peccato. Giusto. Che significa? Significa che noi nei peccati ci stiamo. Lui ha affrontato la passione alla morte per tirarci fuori da questa situazione. Ma se io dico io i peccati non ce l'ho, quindi significa che tutto quello che tu hai fatto a me non mi serve, non serve a niente. Oppure tu sei un bugiardo, perché dici che sei morto per salvarmi dai peccati e io i peccati non li faccio. Avete capito ragazzi? Hanno capito anche i grandi. Guardate, questa è una cosa seria questa qui. Allora, se io mi accorgo, dico, mi vorrei andare a confessare, ma non so che dirgli al confessore. In buona fede, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di curare la nostra formazione. Ascoltare. Capite? Ripassare i dieci comandamenti. Io generalmente lascio in fondo alla chiesa un foglietto, un promemoria, per fare l'esame di coscienza, dove c'è un pochino una sintesi dei principali peccati che si fanno. Uno se li legge e dice questo l'ho fatto, però bisogna essere sinceri. Sì o no? Mi sa di sì. Segno e quando vado a confessarmi lo dico. Allora, in forza di questa cosa, vedete oggi che ci sta lì vicino all'ambone. L'avete visto quel quadro lì? Vi piace? Ve lo faccio vedere da vicino. Guardate che bello questo qui, perché tra l'altro pare che questo quadro sia molto somigliante a come è Gesù. Vedete questo qui? Vi piace? È bello Gesù o no? Vi piace o non vi piace? Chi è che ce l'ha? Brava! Lo conoscete voi questo quadro qui? Bello eh? Vedete che Gesù ha la mano sul petto, questo è Gesù risorto, e gli partono due raggi, uno bianco e uno rosso. No, a me mi sembra blu. Bianco sì, bianco celestino. Questo poi a me mi sembra un giappolo. No, allora, il rosso è un colore di che cosa? che cosa vi fa pensare il rosso? Il diavolo. No, oltre che al diavolo. La rabbia. Il peccato. Sentite un po', ma se tu ti tagli la mano, che succede? Il sangue, esce il sangue. Esce il sangue, no? E che colore è il sangue? Il rosso. È rosso, no? E questo bianco celestino, che cosa vi fa pensare? All'acqua bianca. Qualcuno l'ha detto? All'acqua, no? Com'è l'acqua? L'acqua è un po' bianchina, un po' celestina. Allora, sapete che quando Gesù è stato crocifisso, vedete che lì sul nostro crocifisso non ce lo abbiamo, perché vedete che questo bellissimo crocifisso che abbiamo qui in chiesa rappresenta Gesù che non è ancora morto, lo vedete che Gesù c'è ancora gli occhi aperti, guarda verso l'alto e non ha la ferita sul fianco. Vi ricordate che quando Gesù era già morto un soldato gli ha trafitto il costato con la lancia, ve lo ricordate? E che cosa dice San Giovanni? Ne è uscito cosa? Sangue ed acqua. E questi qua sono simboli di due sacramenti importanti. l'acqua in quale sacramento si usa? Oh Giuseppe, il battesimo. E il sangue a quale sacramento vi fa pensare? All'Eucaristia. Io tra poco salirò sull'altario e dirò questo è il calice del mio sangue. Quindi sono i due sacramenti fondamentali. Quante volte si riceve il battesimo nella vita? Una, giusto? A che cosa serve il battesimo? A togliere il peccato originale e toglierci tutti i peccati. E se io faccio un peccato dopo il battesimo, che cosa devo fare? Bravi. Quindi il battesimo si riceve una volta sola, ma la confessione si riceve tante volte. Ebbene, quindi questa domenica si chiama, in forza di questa immagine di Gesù che apparve una grande santa polacca che ha dichiarato santa Giovanni Paolo II, Gesù gli disse, guarda, fai dipingere un'immagine così e di al Papa che la domenica in Albis, quindi l'ottava di Pasqua, io voglio che si chiami la festa della divina misericordia. Perché in questo giorno i sacerdoti devono ricordare a tutti quanti i fedeli quanto è grande il sacramento della confessione e quanto è grande la mia misericordia. Capito? Perché vi ho parlato di queste cose in forza del Vangelo che abbiamo ascoltato. Un'ultima cosa, c'era qualcuno che ci aveva creduto alla risurrezione di Gesù? Avete sentito il Vangelo? Vi ricordate che è successo? C'era uno che non c'era, uno degli apostoli. Come si chiama? Come si chiama? Tommaso. Che ha detto Tommaso? Io non ci credo che Gesù è risorto. Se non metto la mano, non è che qualcuno è Tommaso qua dentro, no? Ci credete tutti che Gesù è risorto? Sì. O qualcuno è Tommaso che vuole mettere le mani nel costato. Ci credete tutti che Gesù è risorto? Sì. Sì? I grandi ci credono, sì? Ci credono, sì? Sicuri? Ecco, bravi. Mi raccomando, niente Tommasi, eh? Allora, buone confessioni a tutti, buona Pasqua a tutti ed è viva perché Gesù è veramente risorto. Niente Tommasi, eh? Siamo tutti come gli altri apostoli che ci crediamo anche se non l'abbiamo visto e speriamo per un giorno di andarla a vedere in cielo. Eh? Ecco. Sì, ma Tommaso poi è comunque santo perché dopo Gesù gli è apparso, gli ha detto, guarda, e lui gli ha detto, mio Signore, mio Dio, San Tommaso è morto martire, poverino. Gli è nata male che è stato sfortunato che c'era proprio lui, poteva capitare a chiunque altro e quindi non mi raccomando, San Tommaso è uno degli apostoli, quindi è diventato anche lui un grande santo e martire per Gesù. Gli è nata male che quel giorno non c'era proprio lui, ma se fosse mancato qualcun altro, secondo me può darsi pure che faceva la stessa fine. Però noi niente, Tommasi, siamo tutti contenti che Gesù è risorto. Buona Pasqua e buone confessioni a tutti. Va bene? Siano lodati Gesù e Maria.